Ciao ragazzi, Pasquale è qui da Repalo, il miglior lavoro per l'ingegneria, miglioramenti e rilasciamento dei tipi di uscita e demolizione. Sono davvero orgoglioso di annunciare che siamo pronti per vendere ai nostri vecchi clienti valutati, l'anima, il king di Montabert Breaker, il V65, ragazzi e ragazzi. Questo è il punto di vista tecnologico che Montabert ha avuto nella produzione dei suoi demolizioni di rock breakers. Montabert V65, fully rebuilt a Repalo, pronti per bruciare tutto. V65, il sito vale! Grazie a tutti per aver guardato Repalo, andiamo a seguire!